La visita a Santa Maria Maggiore per mettere sotto lo sguardo di Maria a Salus, popoli romani, il suo 31esimo viaggio internazionale. Poi il messaggio per il popolo di Maurizio, la splendida isola dell'oceano indiano che sarà l'ultima tappa dell'itinerario africano. La Chiesa Cattolica fin dall'origine è inviata a tutte le genti e parla tutte le lingue del mondo, ma la lingua del Vangelo, voi lo sapete, è l'amore. Francesco nuovamente testimone di speranza nella periferia del continente, tra etnie e tradizioni culturali diverse, tutte bisognose di attenzione e sostegno. Sette giorni tra Mozambico, Madagascar e Maurizio, dedicati alla pace e alla riconciliazione guardando ad Oriente. Tutto pronto a Maputo, prima città ad accogliere il Papa Pellegrino, si sistemano gli ultimi dettagli di un benvenuto che darà la temperatura della visita. Il paese, alle prese con una complessa transizione dopo decenni di guerra civile, attende le parole e gesti di Francesco, profeta di pace, che a distanza di 31 anni dalla visita di Giovanni Paolo II, viene ad incoraggiare e confermare il travagliato cammino verso l'unità nazionale, ma anche a sostenere la Chiesa Mozambicana, che oggi ha nuove sfide da affrontare, come la pervasiva presenza di sette che insidia l'identità e l'azione della comunità cattolica e l'aumento esponenziale della povertà.